A quel tempo, se fosse aperte la... non potevano andare tutti in America, i passi sono erano chiusi, solo quelli che qualificavano, come noi che mia madre era nata qui, ma se avessero aperto le strade, potete venire, ma tutto il paese sarebbe venuto in America, nel 54. Perché tanta gente non poteva... No, c'era la quota, tanti all'anno, solo quelli che sono nati qui, come Lino stamattina è nato qui, l'altro Lino Frank è nato qui, e avevano il permesso perché avevano i diritti, se no non poteva venire.